Allora sicuramente usciranno 4 di questi 5 esercizi Allora il primo è di teoria e ti chiederà appunto variabili quantitative e qualitative Moda, mediana e media e gli altri indici di deposizione Varianza e devianza di altri indici Poi sicuramente frequenze assolute, relative, percentuali e quelle accumulate Quindi chiederà di fare la tabella con frequenze assolute, relative, percentuali o solo alcune di queste E ti chiederà magari, cioè ti chiederà qualche domandina su quelle frequenze Poi ci sono gli esercizi pratici veri, che sono 4 possibili Però ne usciranno probabilmente solo 3 di questi 4 E il primo è sull'indice di concentrazione Quindi bisogna alcolare l'indice di Gini R e poi la curva di Lorenz Il secondo, cioè il terzo esercizio è la correlazione Poi dopo questo ci sono solo esercizi sulle correlazioni Che quando è tra due variabili qualitative Si fa il chi quadro e fi quadro e v di Gramer Quando è una variabile qualitativa e una quantitativa Si fa l'eta quadro, si calcola l'eta quadro E quando ci sono due variabili quantitative Si calcolano e sicuramente ti chiederà di calcolare l'indice di determinazione lineare Grazie 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 Grazie